Ok, pronto per registrare Fortnite, nessun aggiornamento oggi, incredibilmente, grazie a Gesù perché ogni giorno ne fanno uno, io ho la connessione africana a proposito di Fortnite Controllo un attimo le mail per vedere se mi è arrivato l'invito per l'evento iOS ragazzi perché voglio provarlo anche sul telefono Ok, nuovo commento sul video di oggi, ciccio gamer 89, ah ah ah, tu sei matto, sarà un fake Per forza raga, non ci credo, è un fake Per forza raga, non ci credo, è un fake